Mattimo Abatte dopo la michevole con Piacenza, rispetto alla michevole di qualche giorno fa mi è sembrato che ci sono stati miglioramenti. Sì, sicuramente abbiamo mosso la palla più velocemente, siamo migliorati, però io dico che ci sono ancora alcune cose che dobbiamo assolutamente mettere a posto. Abbiamo ancora 15 giorni per metterla a posto e dobbiamo farlo perché alcune cose non mi sono piaciute molto, però ho visto dei miglioramenti in fase di possesso palla, questo sì. Con l'arrivo anche di Piccinini e Artioli oggi impiegati dal primo, la squadra sta appendendo forma? Sì, ma la squadra aveva forma anche prima, a prescindere dai giocatori che sono arrivati o quelli che magari arriveranno anche negli ultimi giorni di mercato. L'importante è avere un'identità, io sto cominciando a vedere un'identità di squadra quando abbiamo la palla, quando non ce l'abbiamo ancora non siamo intensi come voglio, non abbiamo ancora quella gamba che vorrei vedere nella mia squadra, quella cattiveria, quel sangue che serve per non prendere gol, per non concedere niente all'avversario, ancora ci manca secondo me e questo secondo me ci manca perché ancora non abbiamo smaltito tanti carichi di lavoro e quindi contiamo nei prossimi 15 giorni di velocizzare un po' la gamba e avere una gamba un po' più tonica e brillante. Questo discorso è nell'ottica, insomma, praticamente Pergo ho preso gol nell'unico tiro in porta che ha fatto in Piacenza. Sì, è l'unico tiro che abbiamo preso, tra l'altro un tiro da 30 e passa metri, quindi ci sta di concedere qualcosa, se non concedi neanche un tiro diventa difficile, però in quel frangente lì la squadra si era spezzata, abbiamo perso una palla banale che non dobbiamo perdere perché era una palla semplice, era facile da gestire e regalare dà sempre fastidio perché poi devi metterti lì, devi recuperare, non era facile oggi nonostante che comunque abbiamo creato, secondo me, almeno 8-9 occasioni da gol importanti. Non ti parliamo sulla rosa, hai alternato tanti attaccanti, mi sembra che hai tanti attaccanti anche di buona tecnica. Sì, sì, ci siamo mossi discretamente, secondo me abbiamo creato... Mancava ancora più. Sì, più manca e non so se lo riavremo per la prima giornata di campionato, vediamo. Quindi sei comunque soddisfatto del lavoro nel primo mese fino a questo momento? Sì, per alcuni aspetti sì, per altri no. Dobbiamo migliorare, dobbiamo migliorare.